In queste settimane più volte abbiamo richiesto la presenza del Presidente Meloni qui, chi sul caso Stellantis, chi sulla vergognosa posizione del Governo italiano sull'astenzione sul conflitto israelo-palestinese, chi, e quindi poi tra l'altro sempre noi, sugli effetti politici della telefonata che ha avuto il Presidente Meloni scambiando una persona per un'altra. E non tanto sull'imbarazzo, ma sulla differenza di quello che il Presidente Meloni dice quelle pochissime e rarissime volte che viene qui in Parlamento rispetto alle sue occasioni private. Adesso delle due l'una. Se questo Parlamento e questa Camera dei Deputati ha ancora un senso e un valore, sta all'opposizione, visto che la maggioranza addirittura si fa fare i comunicati da Palazzo Chigi dicendo che non interverranno in sede emendativa e li fa Palazzo Chigi dicendo quello che farà la maggioranza, che è una cosa umiliante dal punto di vista della maggioranza. Ma visto che non viene mai richiesto questo al Presidente Meloni in aula, noi come opposizione abbiamo assolutamente interesse affinché quest'Aula mantenga una sua dignità. Sono settimane, sono mesi che stiamo chiedendo un Premier Time delle informative su delle cose serie che riguardano questo Paese. I comici russi ne sanno più di noi. I comici russi ne sanno più di noi. Non è più tollerabile. Quindi io le annuncio, visto che non abbiamo ricevuto nemmeno una risposta, non è né un sì né un no. Io le annuncio, come ho già annunciato in capigruppo e al Presidente della Camera, che la prossima settimana l'atteggiamento dell'opposizione sarà molto più disordinato perché a mancanza di rispetto si risponde con mancanza di rispetto perché probabilmente è l'unico linguaggio che questo Governo conosce. Grazie.